Amici del software libero e open source, benvenuti o bentornati in questa 152esima puntata del podcast di Marcos Box. Sì, cosa ho fatto passare un mese? Non lo scuso anche stavolta. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero e open source. Questa puntata sarà diversa rispetto alle altre, semplicemente perché c'è praticamente un mese di arretrati, quindi entro molto veloce nel commentare notizie. Apriamo questa puntata parlando dei riasci delle distribuzioni Linux che si sono avuti nel corso dell'ultimo mese. E iniziamo col parlare della prima versione alfa di Vanigo S2, nome in codice Orchid. Di questa distribuzione di Vanigo S ve ne avevo parlato già diverso tempo fa sulle pagine di Marcos Box. Fra l'altro avevo anche fatto un articolo intervistando l'autore della distro, Mirko Brombin, uno sviluppatore italiano famoso anche per alcuni software come Bottles, che è un software che consente di eseguire facilmente applicazioni di Windows su Linux, che è un software molto utilizzato e apprezzato. Vanigo S ha una serie di peculiarità, le principali sono l'essere una distro immutabile con aggiornamenti atomici e avere come base Gnome, quindi sempre l'ultima versione di Gnome, con un minio proprio di personalizzazioni quasi zere. Da qui anche il nome di Vanigo S. Vi dicevo, è stata rilasciata la prima versione alfa di Vanigo S2, è molto importante questa prima alfa di Vanigo S2, nome in codice Orchid, mi sono dimenticato il nome in codice, perché è importante, perché segna il passaggio dalla base Ubuntu a quello Debian. Perché è stato fatto il passaggio da Ubuntu a Debian, vi invito a scoprirlo, andando a recuperare i vecchi articoli. Sulle pagine di Marcosbox trovate l'articolo completo che vi spiega quali sono le principali novità di questa developer preview di Vanigo S. Orchid, e vi spiega anche, vi indica anche il link per poterla scaricare. Ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate della distro lasciando un commento sulle pagine di Marcosbox. E passiamo adesso a comparare di due distribuzioni che invece sono arrivate nella fase di beta release. Sto parlando di Linux Mint Debian Edition e di Fedora. Iniziamo con Linux Mint Debian Edition, perché lo scorso 13 settembre Clement Refebvre ha annunciato il rilascio della versione beta di Linux Mint Debian Edition Seidom in codice Fie. Che cos'è Linux Mint Debian Edition? Come lascia presaggire il nome è una versione di Linux Mint basata su Debian. Lo scopo di Linux Mint Debian Edition è quello di avere un piano di riserva, una sciaruppa di salvataggio nel caso in cui Ubuntu smettesse di esistere, nel caso in cui scompare, nel caso non venga più sviluppata. E quindi gli sviluppatori hanno deciso di portare avanti parallelamente allo sviluppo di Linux Mint, quella classica, quella basata su Ubuntu, di questa versione basata su Debian. E secondo me questa versione di Debian basata su Debian diventerà nel prossimo futuro l'edizione principale, visto e considerata la smania di Canonica di propinarci sempre più applicazioni in formato snap, di puntare sempre più applicazioni in formato snap e sul fatto che, come ben saprete, Canonica ha deciso di annunciare una distribuzione, una variante di Ubuntu, tutta quanta snap centrica. Quindi, secondo me, Debian Edition sarà lì a soppiantare l'edizione normale di Linux Mint nel corso dei prossimi, forse nel prossimo dei due anni. Se Canonica decide di fare il grande passo per la prossima GTS, non questa qui ma la prossima avventura. Comunque, Linux Mint Debian Edition 6 è basata su Debian 12 Bookworm ed offre l'ultima versione di Cinnamon come ambiente desktop predefinito. Ovviamente, essendo una versione beta, potrebbero esserci bug critici e si sconsiglia l'utilizzo su macchine di produzione, ma l'utilizzate solo a scopo di test, se volete testare, se amate provare così in anteprima. L'altra distribuzione di cui vi parlavo, che è giunta nella fase beta, è Fedora Workstation 39. Fedora è la distribuzione più amata dagli utenti GNOME, lo sapete, perché porta sempre l'ultima versione di GNOME in formato vanilla. e questa versione non fa eccezione, perché Fedora Workstation 39 porta GNOME 45, che è stato rilasciato giorno 20, quindi si trova proprio al calendario, come si dice a Foggia, con il rilascio di GNOME, perché da tradizione Fedora segue i rilasci di GNOME, sono praticamente sincronizzati. Quali sono le novità principali di Fedora Workstation 39? C'è il rilascio della versione di GNOME 45, LibreOffice che viene aggiornata nella versione 7.6, aggiornamenti per quanto riguarda tutta la GNU Torchain, quindi GCC, GribC, GDB e quant'altro, che sono sempre aggiornati all'ultima versione, e basta. Inizialmente avremmo dovuto vedere il nuovo installer, e avremmo dovuto vedere anche qualche altra modifica, come la nuova versione di DNF, però purtroppo, da quello che ci è stato detto, le cose non sono mature, e quindi in Fedora hanno deciso di rinviare l'introduzione di questi due grandi cambiamenti all'interno della LISO. Sapete come sono fatti quelli di Fedora? Vogliono le cose fatte bene, che funzionano bene. E a proposito sempre di Fedora, ci sono due notizie che potrebbero far arrabbiare molti degli utenti all'ascolto, soprattutto gli utenti, quasi sicuramente l'esclusività degli utenti, che utilizzano schede video Nvidia, perché i manutentori di Fedora Linux hanno pubblicato negli scorsi giorni due proposte di modifica, che mirano a rendere Fedora di fatto una distribuzione X11 free. Perché? Perché sia, a quanto pare, sia nell'edizione su Fedora 40, quindi si parla del prossimo ciclo di riascio, sia l'edizione con KDE che l'edizione con GNOME, avranno soltanto Weyland per impostazione predefinita, quindi saranno sviluppate partendo da Weyland. Non ci sarà più la sessione X11 pre-installata. Cosa positiva? Cosa negativa? Stanno da valutare diversi pro e contro. Di certo c'è che, sapete bene che litigano un po' gli utenti Nvidia con Weyland, ci sono alcune applicazioni che continuano ad avere problemi con Weyland, ad esempio una su tutti, se non ricordo male, ci sono problemi con Blender, ci sono problemi con OBS Studio e quant'altro. Quindi è una scelta coraggiosa quella da parte del team di Fedora, che hanno deciso di fare il grande salto, o meglio, stanno meditando, stanno decidendo di fare il grande salto. Speriamo che sia tutto pronto per l'anno prossimo, soprattutto e finì tutto quanto liscio. Perché, come ben sapete, anche l'anno prossimo, nel febbraio dell'anno prossimo, ci sarà il rilascio della nuova versione di KDE, KDE Plasma 6, basata su QT6 e KDE Frameworks 6, che, nel caso della versione KDE, fare tante cose porterà significativi miglioramenti per quanto riguarda il supporto a quelli che da. Se, dal lato, sul GNOME non ci sono grossi problemi, su KDE c'è ancora qualche problema, che però dovrebbe essere colmato con l'arrivo di KDE Plasma 6, che arriverà con Fedora 40. Vabbè, comunque, incrociamo le dita, speriamo che vada tutto bene. Speriamo che Weyland veramente... Anzi, speriamo che il 2000... Facciamo così, speriamo che il 2024 sia l'anno di Weyland che sia sdoganato e che sia funzionante a puntino con tutti i tipi di schede video. Quindi, incrociamo le dita. Restando a parlare di distribuzioni Linux, parliamo di Ubuntu 23.10, cui rilascio è previsto in forma stabile nel prossimo mese. Quindi, manca davvero poco. Ho pubblicato due notizie riguardanti Ubuntu 23.10 e una, anzi, meglio, una notizia e un video approfondimento. Il video approfondimento è un video che vi mostra il nuovo App Center scritto in Flutter. Ve ne avevo parlato già diverso tempo fa di questo nuovo App Center scritto in Flutter, nato dalla comunità e adesso inglobato all'interno di Ubuntu. e vi faccio vedere all'interno del video che trovate linkato sulle pagine di Marcosbox quali sono le criticità che ho potuto constatare in questa prima versione di questo App Center scritto in Flutter, perché è una versione attualmente in sviluppo, quindi è proprio allo stato di un brunare. e quali sono anche i punti di forza di questo Application Center. Vi faccio uno spoiler, anzi, no, non vi faccio nessuno spoiler, andate a vedere il video così così andate a capire meglio che cos'è, perché è inutile che ve ne parlo. Un'immagine vale più di meglio parere. Lo capirete durante la visione del video anche per i vari bug che ho incontrato. L'altro argomento, l'altra notizia riguardante Ubuntu 23.10 riguarda il fatto che, fortunatamente, su Ubuntu 23.10 Caps continuare a essere nel formato DEB e non in versione Snap come inizialmente aveva anticipato qualche mese fa Tig Camperter, esegupatore di Canonica, nonché responsabile del progetto Open Printing. Si sono accorti che le cose non sono andate esattamente come nei piani e hanno deciso di posticipare la migrazione del pacchetto di Caps al formato Snap per la prossima release semestrale di Ubuntu, ovvero al anno prossimo con il rilascio di Ubuntu 24.10 quindi fra un anno a partire da ora. Scongiurato dunque il pericolo che questa modifica potesse arrivare sulla prossima GTS di Ubuntu che uscirà ad aprile del 2024. Speriamo che riescano, speriamo per gli utilizzatori di Ubuntu che non ci siano intoppi e che questa modifica riesca ad arrivare per tempo e che il pacchetto Caps in formato Snap sia perfettamente integrato in GNOME nonché completamente funzionante in tempo per la 24.10 di Ubuntu. Collegate le cose con quello che vi ho detto prima riguardante Linux Mint Debian Edition quindi c'è il rischio concreto che la mia profezia si possa avverare a breve. E concludiamo questo spazio dedicato alle distribuzioni Linux con una notizia riguardante Fedora Asai Remix ovvero la distro di punta del progetto Asai Linux che mira a portare Linux sui processori Apple Silicon. Questa distribuzione basata sulla spin con KDF di Fedora Linux utilizzerà Calamares come installer grafico. Calamares consentirà la distro di essere compatibile al 100% con Wireland senza Xorg senza problemi e quant'altro grazie anche ad alcune patch che di Calamares che Hector Martin ha personalmente scritto e portato upstream all'interno di Calamares. spero di poter in futuro riuscire a mettere mani su un computer dotato di Apple Silicon non vi nascondo che sto meditando seriamente di acquistare un MacBook Air basato su su sui processori Apple Silicon quello che mi ha bloccato fino ad adesso non tanto il fatto che sono schifosamente povero quanto il fatto che dovrei poi sottostare una serie di problematiche nell'utilizzo di Mac OS dovute al mio lavoro perché comunque mi serve la partizione con Windows o meglio la macchina virtuale con Windows per poter eseguire alcune applicazioni comunque senza avere Asai Linux funzionante al 100% sul computer verrebbe meno anche la mia la mia natura di pinguino sul portatica e sto aspettando sto aspettando che Fedora Asai Remix venga rilasciata in forma in forma stabile che sia che sia funzionante al 100% per fare per fare questo grande passo di perché da a tutti quanti piace secondo me o mio modesto parere avere un computer come i MacBook Air perché diciamo sono fatti davvero bene avere un computer senza vento la Fagless è una cosa spettacolare averlo poi con Linux sarà la cosa perfetta al bacio voi non preste mai fatemi sapere prima di passare una serie di articoli guide e quant'altro che sono state postate sia da me che da dai ragazzi della community di Marcosbox parliamo del rilascio di Gnome45 nome in codice riga è stato rilasciato giornamenti quindi se state ascoltando questo post cast il giorno della sua pubblicazione e sto parlando della giornata di ieri quali sono le novità di questa nuova versione di Gnome beh gli sviluppatori si sono concentrati sul perfezionamento delle interazioni quotidiane sul miglioramento delle prestazioni e sul rendere l'esperienza complessiva più fluida ed efficiente ritocchi al design aggiornamenti funzionali hanno lavorato davvero bene per rifinire il sistema io io continuo ad apprezzare la pulizia di Gnome continuo ad apprezzare anche il suo minimalismo il suo avere pochi settaggi avere un default quasi perfetto diciamo quasi perfetto perché io non continuo a rimpoverare a Gnome la mancanza di alcune cose base come per esempio il fatto che mancano gli indicatori di terze parti nella tree e a tal proposito vi invito anche a guardare il video che ho pubblicato sul canale youtube e che trovate linkato anche sul blog dove vi spiego come io personalizzo il gnome shell come lo rendo più usabile più a misura di di giannini andatelo a vedere magari lasciate un commento postando magari quali sono le vostre estensioni consigliate torniamo a gnome 45 di che che vi stavo parlando ha introdotto alcune cose interessanti ha introdotto ha fatto un miglioramento dell'indicatore di attività adesso non ci sta più la scritta attività activities ma è stato tutto migliorato è stato svecchiato dal punto di vista del design è stato introdotto anche in maniera sperimentare uno stile di sistema chiaro quindi un tema per gnome shell chiaro che attualmente non si può non si può attivare direttamente con un selettore ma è stato introdotto cioè da fare una modifica in g settings per andare a attivare sono stati poi fatte miglioramenti per rendere la ricerca più veloce è stato giunto all'indicatore di utilizzo della fotocamera si sono adeguati ai sistemi ai sistemi operativi mobile in questo caso già con il precedente rilascio su gnome avevano introdotto praticamente un'iconcina del microfono persistente quando si stava il microfono in funzione quindi sapevate a sapete su gnome quando un'applicazione sta utilizzando il microfono adesso è stato fatto un ulteriore step ed è stato aggiunto un indicatore per l'utilizzo della fotocamera quindi se qualcuno vi sta a spia quindi o qualche applicazione sta utilizzando la fotocamera vedrete l'indicatore anche se non è proprio compito perché l'indicatore viene visualizzato soltanto per le app che utilizzano le più recenti tecnologie per la fotocamera ovvero pipewire le altre le altre le altre novità riguardano un nuovo visualizzatore di immagini una nuova applicazione fotocamera nuovi stili per le applicazioni files che è stato è stato migliorato impostazioni di data migliorate migliorata anche l'accessibilità insomma il changelog è bello corposo andatevi a leggere l'articolo che ho pubblicato sulle pagine di marcosbox dove trovate anche il video realizzato dal team di gnome con tutte le principali novità e passiamo adesso a parlare del rilascio di firefox 117 perché a mio avviso è importantissimo parlare del rilascio di firefox 117 perché finalmente hanno iniziato a introdurre la funzionalità di traduzione automatica delle pagine web tutto è partito dal progetto bergamot chi mi segue sulle pagine di marcosbox sa che io ho tenuto gli occhi puntati sul progetto bergamot finanziato dall'unione europea che ha servito a sviluppare un motore di traduzione offline da integrare in diversi software fra i quali Firefox l'ho provato e l'ho consigliato quando era disponibile soltanto come estensione e adesso è stato finalmente integrato all'interno del browser web non è stato subito attivato per tutti quanti gli utenti con il rilascio con il giorno zero del rilascio di Firefox 117 è stato abilitato mano a mano per gli utenti nel corso delle settimane successive al rilascio il rilascio comprito per impostazione predefinita arriverà su Firefox 118 quindi tutti quanti le nuove installazioni che avranno di default a partire di Firefox 118 e a mio avviso è quello che mancava a Firefox per essere un browser più comodo da utilizzare perché diciamo che molti utenti non masticano bene l'inglese non solo l'inglese ma anche altre lingue e avere una funzionalità di traduzione integrata all'interno del browser è una grande cosa perché oramai tutti quanti i browser ce l'hanno ce l'ha Google quando l'ho introdotto per primo ci sta Edge che utilizza il suo motore di traduzione di Microsoft c'era Vivaldi con il suo Ring Cosa mi ricordo come si chiama comunque c'era anche Vivaldi c'era anche Brave quindi ce l'avevano tutti quanti mancava soltanto Firefox e spero vivamente che venga introdotta più presto anche nella versione mobile perché almeno così su Android finalmente potremo avere il traduttore anche su Firefox perché Firefox per Android sta migliorando tantissimo e passiamo adesso alle news a raffica così come le definisce Raiden sul suo canale YouTube seguitelo perché i player inside sono molto bravi e preparati sull'argomento videogames iniziamo con una notizia con un articolo pubblicato da Guka che spiega come risolva i problemi e la luminosità della webcam nasce tutto quanto da un'esperienza sua personale c'era un amico suo che aveva segnalato che la sua webcam aveva iniziato a dare qualche problema sul punto 22.04 con una luminosità dell'immagine che veniva correttamente corretta continuamente corretta dando un fastidioso effetto stroboscopico e nel suo articolo nella sua guida Luca ci spiega come ha affrontato il problema come ha risolto il problema sempre dalle mani di Luca è stato pubblicato il suo nuovo hands-on e questa volta dedicato a Debian 12 nella quale Luca ci parla di Debian 12 della sua esperienza e ci fa una recensione della distribuzione andate alla legge perché sono sempre articoli molto apprezzati c'è stato poi un articolo realizzato da Andrea Paz che spiega come utilizzare FFMPEG da linea di comando e non è una guida il saustino è una guida completa al 100% si basa su una serie di appunti che lui ha collezionato nel corso del tempo ma è un punto di inizio davvero interessante vi spiega tante cose che io personalmente non ne sapevo molte di queste cose quindi complimenti ad Andrea per questa guida possiamo adesso invece a un'altra notizia sempre un'altra guida che è postata sulle pagine di Marcosbox che è questa volta firma mia riguardante la risoluzione di un problema che si presenta su KDNEON sull'ultima versione di KDNEON quando lo si va a installare praticamente in Dolphin si presenta la mancanza non abbiamo le cartelle e directory utente che non vengono create durante l'installazione quindi abbiamo soltanto l'iconcina della directory del desktop mancheranno quindi documenti immagini modelli musica scaricati pubblici video nella guida nell'articolo vi spiego come con un semplice comando da terminale possiamo ripristinare il tutto speriamo che gli esecupatori di KDNEON arrivino con la testolina a decidere di 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 correggere questo problema dai perché da un casino di tempo che ci sta questo problema ci sono poi due articoli che passatemi il termine ho pubblicato su ordinazione a seguito di una richiesta che mi è stata fatta da un ascoltatore su un video ascoltatore su youtube che mi chiedeva informazioni su come installare due software di nicchia su ubuntu il primo è group suite community edition che è un'applicazione che serve per testare la sicurezza delle applicazioni web e l'altro è hash identifier che serve ad identificare il tipo di hash utilizzato in un file o una stringa di un testo sulle pagine di marco source trovate questi due articoli sono i primi due articoli pubblico riguardante il settore della sicurezza i software della sicurezza ne sto preparando un terzo perché mi è stata richiesta anche un altro software però mi sono arenato nell'installazione di questo software perché mi dà un errore su ubuntu che devo vedere ancora di capire da dove diavolo deriva se riuscirò nei prossimi giorni lo posterò nei prossimi giorni se no non vedrà mai la luce non saprete mai di che cosa sto parlando e passiamo adesso alle ultime due notizie di questa lunga puntata del podcast di marcos box perdonetemi ma ho dovuto recuperare un mese di articoli due notizie o meglio una notizia e un editoriale perché di fatto il primo è un editoriale iniziamo proprio con l'editoriale ho pubblicato in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico un articolo perché utilizzare software libero open source nell'ambito didattico dove vado a analizzare i vantaggi dell'utilizzo di software open source e software libero all'interno della didattica dell'insegnamento in generale fatemi sapere che cosa ne pensate se anche voi condividete questi punti che ho annunciato perché ci tengo molto al vostro giudizio al vostro parere e concludiamo questa puntata con una notizia un po' inquietante perché tutti gli eventi sono svolti in un arco temporale molto ampio di sicuro non avrete sentito parlare di questa notizia perché è stata riportata anche da testate che non trattono interamente di software open source ed è una notizia riguardante una scoperta che è stata fatta da parte di Kaspersky a seguito di una indagine su due mini sospetti che ha permesso di scoprire che scaricando Frido God Manager su Linux dalla nostra distribuzione scaricando quindi pacchetto deb dal sito ufficiale venivamo reindirizzati in maniera randomica verso un pacchetto deb contenente un malware è una cosa un attacco chiamiamolo così rivolto soltanto agli utenti Linux perché di fatto veniva reindirizzato a questa versione malevola soltanto la versione per Linux di Frido God Manager ed è un un attacco che è andato avanti dal 2020 sino al 2022 come funzionava come funzionava la cosa funzionava che tutti quelli che si sono connessi perché diciamo questo pacchetto contenente malware di Frido God Manager può essere capitato di sicuro a moltissimi di voi utenti agro scotto che hanno scaricato il software in questo arco temporale funzionava così andando sul sito di Frido God Manager andando a scaricare il pacchetto deb venivamo reindirizzati in maniera randomica e quindi qua sta anche la cosa subida di questo attacco verso un altro sito internet con un altro dominio che ospitava il deb contenente il malware questo pacchetto si è rivelato contenere uno script post installazione infetto che veniva inseguito a un momento dell'installazione che creava si insediava all'interno del computer e che lanciava i file condi ogni 10 minuti che cosa che cosa veniva rubata grazie a questa backdoor che veniva lasciata aperta da questo pacchetto contraffatto di Frido God Manager tanta roba tanta roba perché i esercupatori di Kaspersky hanno scoperto analizzando il traffico che il malware raccoglieva dati come informazioni di sistema cronologia di navigazione password salvate file di portafogli criptovalute e credenziali per i servizi cloud quindi AWS Google Cloud Oracle Cloud e anche Azure quindi era un tipo di attacco molto particolare molto insidioso che ha occupato tante informazioni e la cosa che ha fatto anche ha fatto anche pensare anche sulla capacità da parte del team degli esercupatori di Frido God Manager che questa cosa era stata a quanto pare già segnalata questo pacchetto era stato già segnalato sul forum del questo comportamento anomal e quindi questo pacchetto anomal era stato già segnalato sul forum di di Frido God Manager ma chi sviluppa Frido God Manager non ha non ha mai posto rimedio non ha mai indagato per poter capire che cosa succedeva e mi fa pensare a male sapete come si dice pensare a male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca e mi sta facendo pensare male di Frido God Manager tutta questa tutta questa faccenda fra l'altro Frido God Manager è una delle applicazioni più più diffuse viene utilizzato largamente anche su Windows e viene consigliato largamente anche su su Windows e vabbè andatevi comunque a leggere l'articolo che ho postato sulle pagine di Marcosbox perché viene spiegato meglio come si svolgeva l'attacco ci sono i vari link al blog al sito di Kaspersky dove viene analizzato questo tipo d'attacco e fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa vicenda se siete spaventati anche voi oppure no e con questa ultima notizia si conclude qui questa lunghissima gargantuesca puntata del podcast come sempre vi invito a iscrivervi numerosi al podcast lo trovate sulle principali piattaforme di podcasting quindi su quella di Amazon su quella di Google su quella di Apple su Spotify potete ascoltarmi anche su YouTube perché ha aggiunto la funzionalità del podcast vi invito poi a iscrivervi numerosi ai vari canali social mi trovate su Facebook mi trovate su X perché adesso non vedete più Twitter mi trovate su YouTube anzi iscrivetevi soprattutto su YouTube dimostrate il vostro amore nei confronti di Marcos Box iscrivendovi su YouTube mettendo mi piace condividendo e quant'altro perché facciamo arrivare a 1000 mi sembra perché stavano 700 una cosa e già fatemi arrivare a 1000 iscritti per piedi mi fate arrivare a 1000 iscritti fate realizzare questo sogno di bambino mi trovate poi su LinkedIn mi trovate su Mastodon Mastodon 1 e soprattutto mi trovate su Telegram dove sono ad attivo il canale Telegram principale che potete utilizzare modi feed reader la community Telegram che potete utilizzare per parlare di tutto non soltanto di Linux e trovate poi il canale Telegram delle offerte Amazon con il quale acquistare prodotti Amazon e dei link affiliazioni e supportare il blog in questa maniera in alternativa se volete acquistare un qualche prodotto Amazon che non che non è pubblicizzato nel canale delle offerte Telegram trovate sulle pagine di Marcosbox sulla destra il mio codice referral da utilizzare su Amazon infine vi ricordo che se volete supportare il blog potete anche farlo acquistando una VPN scelta tra Travers VPN Nord VPN e Surfshark perché fanno parte tutta la stessa famiglia sulle pagine del blog trovate una comparativa di queste tre VPN quali sono i punti di forza i punti di caratteristiche peculiari insomma e trovate i tre link affiliazione con questo ho concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo spero la prossima settimana ciao ciao